La corsa della lumaca In una calda giornata d'estate, lumaca uscì dalla sua tana e cominciò a correre. Guarda, lumaca, che sole grande che c'è oggi, le gredo a tasso, ma quella rispose non posso, non posso, devo andare. Lumaca entrò poi nel bosco. Ciao, lumaca, senti che aria frizzante pizzica tutto il muso, le disse Orso con occhi scintillanti. Sì, sì, ma non ho tempo, devo andare, Orso la guardò scuotendo il capo. Poco più avanti, lumaca attraversò il ponte sopra un ruscello e correva, cioè lumaca andava così veloce che sembrava correre. Una corsa da lumaca, si intende, ma era davvero veloce come un fulmine lumaca. Dall'acqua sbucò salmone che sussurrò, fermati lumaca e osserva con me le scie scavate dal vento nell'acqua. Ma devo andare, devo andare. Così lumaca non si fermava né a bere né a riposare, andava sempre dritto e sempre avanti. Provò a fermarla anche serpente, che come lei strisciava e conosceva quell'andare lento e un po' bavoso. Lumaca, fermati al sole qui con me, ci prendiamo una bella tintarella. Lumaca con voce un po' severa rispose, non ho tempo né per riposare né per prendere il sole, devo andare. Anche volpe, furba e mattacchiona, come sempre ci provò. Dietro quella collina ho scoperto un campo di lattuga tenera appena sbocciata, come fiorire di primavera. Ma lumaca non si lasciò tentare, devo andare. Dove andasse la lumaca nessuno lo sapeva, nessuno lo immaginava, nessuno ne era informato. Ma tutti erano un po' curiosi di saperlo, così Tasso, Orso, Serpente, Volpe e anche tanti altri animali si radurarono vicino al campo di lattuga per discutere della strana determinazione di lumaca. Secondo me va una festa, disse Volpe. Secondo me vuole migrare, cambiare paese, disse Serpente, oppure andare dai parenti, provò Tasso. Civetta non si era ancora vista quel giorno, volò all'improvviso in mezzo a quello strano gruppo di animali, maestosa e regale e con sguardo severo chiede, chi di voi ieri ridendo ha detto a lumaca, tu vai troppo piano e concludi sempre un bel niente? Tutti gli animali ammutualirono, si guardarono l'un l'altro con musi pelosi, pennuti, viscidi, squamosi, molto seri e preoccupati. Si fece avanti Volpe. Io le ho detto solo che era pigra, è stato Orso? No, no, io le ho detto solo che striscia striscia ma non arriva mai, è stato Serpente? No, no, io le ho detto solo che sono più veloce di lei ma anche io non ho le zampe, è stato Orso? No, io le ho solo detto che è sempre in retardo agli appuntamenti, è stato Civetta gridò. Zitti, avete ricordato a lumaca la sua lentezza e così proprio oggi le se n'è andata. Ma dove è andata? Chiederò tutti quanti in un unico coro. Chissà dove rispose Civetta, volerò cercarla. Lumaca intanto coraggiosa e instancabile era arrivata molto lontano fino ai piedi della tana del lupo, ansimando per la fatica si fermò e proprio in quell'istante apparve lui, il grande lupo. La guardò piccola e stanca e teneramente le chiese, lumaca hai fatto tanta strada. Cosa ti ha portato fin quassù? Lumaca era molto emozionata, pochi erano riusciti ad avvicinare il saggio lupo che viveva da solo tra le montagne. Grande lupo sono qua perché volevo dimostrare a tutti che so correre e fare qualcosa di utile ma in verità volevo solo scappare e quando si tratta di scappare anche le lumache sanno correre. Ma tu non devi né correre né scappare replicò lupo, devi risolvere il tuo problema ma il fatto è che tu non hai problemi. Gli amici a volte sbagliano e parlano troppo, correndo in fretta con la lingua invece di rallentare, dovrebbero imparare molto da te, ma tu sei tu lumaca e le lumache non corrono, come ogni animale hanno il proprio tempo. Lumaca ascoltava attenta piegando le sue piccole corna in segno affermativo, di certo adesso i suoi amici ti staranno cercando, disse lupo. È vero, ora che ci penso ognuno di loro mi ha fatto un invito gentile ma avevo troppa fretta di scappare. Vedi la fretta è una benda sugli occhi, vai ora. E lumaca si mise di nuovo a correre ma questa volta è per tornare a casa. Sulla via del ritorno incontrò Civetta che dall'altro gridò non si è mai visto abbastanza nella vita, una sciocca piccola lumaca che corre. Ciao lumaca, ti seguo in volo, ma vai piano altrimenti ti perdo. Ad aspettarla c'erano tutti, il sole grande, l'aria frezzante, la scia del vento sull'acqua e un campo di lattuga apparecchiato per lei con tutti i suoi amici animali. Lumaca respirò fondo, poi finì con un sorriso da lumaca la sua prima e unica corsa. Bimbi vi è piaciuta la storia della corsa della lumachina? Avete visto perché a volte anche io quando dico delle cose ai miei amici prima di parlare non ci penso e allora poi va a finire che magari dico cose che possono renderli tristi o che possono far star male, proprio come gli amici della lumachina gli dicono che è lenta e che non corre abbastanza veloce e lei ci resta molto male. In realtà però la storia cosa ci insegna? Che ognuno è unico e ognuno è bello così com'è. La lumachina sarà più lenta, la civetta saprà volare, il serpente saprà strisciare, ognuno fa quello che è capace di fare, come noi anche e quindi non bisogna prendersi in giro se qualcuno è meno bravo a fare qualcosa. Sarà sicuramente bravo a fare altro. Bimbi ci vediamo presto, un bacione e buona giornata a tutti. Ciao!